Buonasera, buonasera a tutti, ultima edizione prima di Pasqua di Calcio.Basket, buonasera Federica, buonasera Loriano, buonasera a tutti. Naturalmente andiamo subito a vedere i nostri ospiti con i quali parleremo di due importanti vittorie, buonasera Alessandro Ceccoli, buonasera a Tomas Gamberini, buonasera Loriano, capitano della Palacanese del Titano, buonasera Andrea Tartaglia, buonasera a tutti, con il quale naturalmente parliamo subito di una partita che anche visti i risultati e dopo ne andremo a vedere delle altre squadre magari viene un po' deluso, sicuramente viene un po' deluso però assume un'importanza incalcolabile perché adesso sì, si può andare addirittura a guardare l'ultima giornata dicendo probabilmente se vinciamo quella evitiamo i play-out, ma di questo parleremo parliamo della partita di ieri con Aolginate, con Aolginate, 64-67 sempre tirata a vantaggio a fine primo tempo, questi sono stati sopra anche in maniera importante nel quarto periodo, hanno anche avuto il tiro del pari, è stata una partita più di testa o più di tecnica? Ma è stata una partita soprattutto più di testa, proprio difficile dal punto di vista mentale, intanto non abbiamo iniziato proprio nel migliore dei modi, ho cominciato con un 9 a 26 se non sbaglio, è stata una partita comunque punto a punto molto difficile, poi siamo riusciti ad allungare sul più 10 e alla fine c'è mancata un po' di lucidità e loro hanno recuperato, sul finale comunque grazie anche all'esperienza di Charlie, comunque dei tiri liberi siamo riusciti a spuntarla alla fine, comunque sono due punti molto importanti anche considerando il fatto che Reggio Emilia ha vinto, se avessimo perso a questo punto saremmo già in zona play-out. Invece ieri è andata bene, Alessandro, due fattori, uno che è quel cardellino di cui avevamo parlato l'altra settimana come rimpianto Krebs, alla fine ha sbagliato il tiro del pari, insomma è andata bene così. L'altra è che i Krebs hanno vinto con Tiberti 6 punti, si parla 3 punti, Busetto 1 punto, ma con Signorini Maes, entrambi in quintetto, discreta novità, 22-11. È un segnale, è un barometro questo di una squadra che se trova a tiro comunque può spuntarla anche fuori casa? Può essere un segnale questo, ma può essere un segnale secondo me è il fatto che una partita come questa, decisiva perché poi al di là che giocavano alle 4, quindi in anticipo rispetto agli altri risultati e non potevano chiaramente sapere nulla delle altre partite, era una partita di un'importanza talmente grande che io, come avevo detto, fuori onda non vinciamo più una partita, tanto posso serenamente dirlo, perché avevo paura che si fosse scatenato nella mente dei ragazzi il giro finale, perdi, perdi, perdi. Invece questa è stata una grande dimostrazione di come una squadra che fino ad oggi aveva fatto una grande fatica a vincere partite a punteggio basso soprattutto, la vince a punteggio basso fuori casa contro una squadra che se vince questa partita è praticamente salva. Quindi voglio dire, una partita mentale questa qui, al di là di 22 punti, della buona prestazione di Signorini, di Myers, è una squadra che è riuscita a dare in un momento decisivo della stagione una scossa mentale alla propria prestazione. Questo che io dico sono ragazzi che fino ad oggi hanno fatto un campionato che secondo il mio punto di vista è strepitoso, perché hanno ottenuto dei risultati, ancora manca un po', perché chiaramente con i risultati che ci sono poi avvenuti nel pomeriggio è rimasto tutto praticamente come prima, per cui probabilmente forse potrebbe anche non bastare solo Bernareggio per assurdo, perché bisogna vedere cosa fanno le altre. Però è stata l'ennesima dimostrazione di una squadra che ci crede, di una squadra che va oltre quelli che secondo me sono i suoi mezzi, soprattutto in questa fase della stagione che erano un pochettino in difficoltà e complicata. Andrea ti chiedo naturalmente di differire ancora di qualche minuto il calcolo, il punteggio alla scaletta e il tabellone di come andrà a finire. Mi dici solo com'è stato festeggiare ovviamente la vittoria e poi due ore dopo magari fare un po' meno festeggiamento. Ma abbiamo festeggiato diciamo in pulmino e festeggiato seguendo comunque l'esito delle partite con il netcasting e poi ci siamo fermati a mangiare e abbiamo scoperto la vittoria di Reggio Emilia e ci è rimasto un po' qua diciamo. E' stato così, insomma adesso poi avrete tempo di riprendervi anche da questo punto di vista. Capitano, capitano Tommaso Gamberi, mi dici naturalmente da fuori perché voi giocate spesso in casa domenica alle 6, i club giocano in casa domenica alle 6, quindi punti di contatto, categoria sotto sopra, cosa da fuori come vedi un campionato di serie B che rispetto alla vostra serie C Gold non ha gli stranieri e in questo caso Capicchioni ovviamente è una delle cose di cui si lamenta spesso e volentieri e in qualche caso trova anche comunque l'utilizzo buono di giorni. Il tuo giudizio generale sul campionato o se hai visto qualcosa? Prima di tutto la regola è un po' particolare perché fa strano che in una categoria inferiore ci possano essere americani e giocatori insomma che potrebbero stare tranquillamente in altre categorie nel campionato italiano e quindi insomma lascio un po' perplessi diciamo. Anche perché magari ti chiedo, voi prendete i 30 da Simaiti e si dice ma perché questo non può giocare in serie B che magari lo meriterebbe pure? Certo, poi quest'anno magari non è capitato che ci fossero americani come altri anni che magari se erano squadre anche un paio si faceva fatica contro loro, quindi per quanto riguarda il livello è comunque rispettabile e dopo ovviamente in serie B è un campionato diverso in quanto le trasferte sono molto più lunghe, molto più impegnativo e anche il numero degli allenamenti immagino che sia abbastanza importante insomma. Tutto rapportato naturalmente all'aumentare di serie, i risultati di questa giornata dicevamo adesso andiamo a vederli nel dettaglio perché lo vedete qua il primo, lì sono interni vale dire Bernareggio che batte Faenza 75-66 con 16 di Gatto dall'altra parte 27 di Corlal e poi Lugo con Vicenza 82-85, 19 di Venucci per Vicenza 24 di Bortolani per Lugo e poi L'Ecco che perde a Costa Volpino ecco un altro risultato 83-64 per Costa Volpino, Piacenza batte i tagghi sfolli 74-57, il risultato dall'NTS Olginate, Palermo che ne prende 26-100 questo rientra nella norma, pur se i 47 segnati fanno sempre scalpore così come i 47 segnati peraltro da Padova ad Esio che ha avuto 22 di Fiorito e soprattutto io credo Andrea vi abbia dato fastidio perché ci sta pure tutto, il risultato di Scandiano ovvero Reggio Emilia a Crema così netto, insomma vi ha fatto mordere le mani ma anche di più, qualcosa che non si può dire perché Crema con noi ha giocato una grandissima partita, avevano giocato benissimo e non ci spiegavano come avesse mollato così la partita in casa con Reggio Emilia Alessandro, andiamo a vedere anche il calendario dopo, però insomma questa è una di quelle uno di quelle mazzate che ti fa dire allora veramente dobbiamo arrivare fino all'ultima giornata Sì, bisogna arrivare fino all'ultima giornata e ripeto, vista oggi con tre partite da disputare potrebbe non bastare vincere solo l'ultima perché dipende, ripeto Inserisco la classifica così me la commenti, chiaramente dentro ci sono 100 che praticamente già prima con 46 punti, Piacenza e Crema sono 38 e sono già tre squadre L'Ecco Vicenza e Feenza 34, sono altre tre, sono sei e le altre due per il playoff al momento ma insomma non credo che cambierà molto, forlì a 32 che è già dentro Edeseo a 28 con 4 di vantaggio su Padova che dovrebbe resistere Quelle, le tre famose fuori dai giochi fortunatamente per evitare i playoff sfortunatamente per evitare i playoff ma adesso insomma si guarda più indietro Sono Padova a 24, Olginate NTS a 22 ma sotto, sono appunto Scandiano, ovvero Reggio Emilia e Bernareggio a 20, poi staccate a Lugo e poi in fondo a Costa Volpino e Palermo C'è poco da fare, parlavo prima della trasmissione Bisognerebbe fare un colpo gobo con 100 dopo Pasqua Non è semplicissimo perché ne è appena dati 26 a Palermo Però chiaramente una vittoria come quella potrebbe risolverti tutti i problemi Fermo l'estendo che ormai è diventato quasi obbligatorio Ripeto, poi ci sono altri risultati nel mezzo Però l'ultimo con Bernareggio perché se perdi quella in casa con Bernareggio poi te la ritrovi allo stato attuale agli stessi punti tuoi Per cui bisogna ambire un 2 su 3 e non è una cosa semplice Oppure sperare che qualcun altro faccia il liscio C'è Padova che continua a perdere magari con la quale abbiamo la differenza canestra positiva Però noi abbiamo quel 2 a 0 pesante con Reggio Emilia e la differenza canestra negativa con Oginate Per cui se arrivi a pari punti la situazione a parte Bernareggio non è proprio, la situazione con Bernareggio dica non è proprio delle più fulgide Quindi bisogna stare con la testa lì, concentrati e provare a battezzare un'altra partita Battezzarla non è semplicissimo perché so che contro la prima contro la seconda Però forse è più facile vincere in casa dopo Pasqua Ha mangiato la gromba Ha mangiato la colomba C'è qualche cannolo storto Qualche cannolo, qualche candito storto Oppure è anche reale la considerazione, chiedo a tutti La possibilità che comunque squadre che devono ambire la promozione adesso mettano così più benzina nelle gambe facciano un pelo di preparazione Penso che sia la situazione di Crema Crema probabilmente si è trovata di fronte a una squadra che ha bisogno di punti è una situazione di classifica abbastanza definita quasi totalmente definita Dice ok, intanto adesso io mi faccio la preparazione per i playoff Come fanno in tanti sport, in tante situazioni Mollo un po' gli ormai Se la vogliono portare a casa, la portano a casa E' quello che spero che faccia anche Centa Vediamo cosa succederà Intanto andiamo a vedere cosa è successo in Cigold Perché San Marino ha vinto 82-73 Con San Lazzaro E uno dice più 9 Si è stati anche a più 18-66-48 Liscia, vero Capitano? E' stata una partita tutt'altro che tranquilla E' vero che siamo andati sul più di sotto Dopo San Lazzaro è stata brava a recuperare E un po' anche per i nostri errori difensivi Però dobbiamo riconoscere il merito a San Lazzaro Che è riuscito comunque Ha continuato a darci fino alla fine E senza mai mollare la partita Quindi sono arrivati quasi a pari punti con noi Dopo qualche situazione in attacco nostra E' riuscita la risollevata Che è un po' la regola che c'è sempre Recuperi 66-48 Se è stato 14-0 Poi addirittura 70 pari E poi non riesci a fare quello scalino Capita spessissimo incredibilmente Cosa Non dico che ve lo aspettavate Però insomma San Lazzaro gioca a un certo ritmo Si è visto il primo quarto 29-20 Incredibilmente Voi benissimo Loro comunque con 20 punti segnati Corri e tira Prendevano il tiro nei primi 5 secondi dell'azione La prossima c'è Gattano Scirea Dopo la pausa e tutto il resto Sono anche partite strane Anche difficile da giudicare Perché loro probabilmente Sono in una situazione di classifica Non da cambiare Vi siete trovati un attimo sballottati per questo Ma in realtà San Lazzaro era abbastanza motivata A voler vincere la partita Guardando la classifica I punteggi delle squadre In zona play-out Dicono molto poco Perché comunque Comunque tranquille Tranquille nel senso Senza tensioni varie Poi è chiaro che ci danno Sì sì Comunque stanno guardando Anche per i vari posizionamenti Per i play-out Che comunque Sono importanti Anche per loro E comunque Sono squadre che Daranno sempre filo da torse Fino alla fine Anche con le squadre Di altra classifica Hanno portato dei risultati Con un divario molto piccolo Insomma Il tuo rientro Perché insomma Sei stato sfortunato Dal punto di vista Degli infortuni Sei rientrato Poi piccola ricaduta Sei stato fermo Nella partita precedente Però sei rientrato Alla grande Nel secondo quarto Quattro possessi Tra attacco e difesa Hai creato Non dico il break da solo Però hai dato una bella spinta A che Un piccolo break Prima dell'intervallo Arrivasse No Sono contento Adesso ancora Abbastanza da lavorare Perché Avevo fatto giusto Due o tre allenamenti Prima della partita E la caviglia Ancora un po' dolorante E Se vogliamo guardare Il lato positivo Comunque Sappiamo questa settimana E la pausa di Pasqua Quindi Il tempo per recuperare c'è Faccio commentare anche te Che chiaramente La classifica Qui La formula È chiaramente diversa Prima 8 Fanno i playoff Le altre 6 Fanno i play out Con formula Di Sfida diretta E poi un concentramento a 3 Che ancora Si deve ben capire Voi siete A 20 punti A due punti Di distanza Da Fidenza e Pontevecchio Che si spartiscono Ottavo posto Un'ottavo All'altra e nona Ci sono due partitori Partito da giocare Uno in casa Gattano Scilea L'altro in casa A molti eventi Con Con Modena Chiaramente Si punta a vincere Tutte e due Ti chiedo C'è qualcuna Visto il calendario Su quale fare la corsa Oppure Voi pensate A portarle a casa Poi si vedrà Cosa ne viene fuori Principalmente Noi dobbiamo pensare A vincerle entrambe Perché se no Non possiamo È inutile guardare Le altre squadre Cosa fanno Insomma E sono entrambe Due partite Che possono essere Difficili Perché Modena comunque Si è rinforzata E il Gattano Scilea Ormai sono 10 anni Che giochiamo contro Ed è considerato Un derby Importante Sia per noi Che per loro Indipendentemente Dalla classifica E a Scilea E a Scilea Andremo A ritrovare Una vecchia conoscenza Frigoli Che a San Marino Ha dato una bella mano Negli ultimi anni Comunque sì Quelle partite Quelle partite Che a Scilea Prescinde Dalle posizioni In classifica Nei vari anni Perché hai detto Si gioca da spessi Spessi Sono sempre Combattute E tese Agonisticamente Parlando Sì C'è un valore Sentimentale Esattamente Vediamo Cosa è Successo In Cisilver Con Sant'Arcanzo Che ha ottenuto Una vittoria Sonante 97-63 Con 20 Di Pesaresi E la Millicol Rebasket Importante Per consolidare La zona Playoff Anche se Chiaramente Il primo posto È molto Molto complicato Difficile Però insomma Vittoria è importantissima Per restare Ben saldi Dentro i playoff In Serie D Belaria ha vinto 64-55 In casa dell'International Imola E primo Pari merito Con Artusiana E Argenta Però Artusiana Ha una partita in meno E tutto si cederà Negli sconti diretti Delle ultime giornate Riccione Ha perso A Sant'Agata E questo è negativo Per le possibilità Di playoff E Anche qui Però ci sono ancora Partita da giocare La matematica Non Non dice ancora Certezze Federico Messaggio Forza di Vira Basket Siete dei grandi Rimine con voi Grande vittoria Eh sì Perché Riviera Basket Ieri Con Mirko Acquarelli Tutti i suoi compagni Ha tenuto una bellissima vittoria Con Trento Alla Karim Una partita Sempre Al comando Per Questa squadra Che è un nuovo progetto Cominciato Quest'anno Una bellissima vittoria E soprattutto Grande tifo E grande festa E questo non è mai mancato Nessuna delle partite Del Riviera Basket È anche bello Vedere questo tipo Di entusiasmo Sugli spalti In qualsiasi Partita giovanile O senior Si possa parlare A proposito Di Pallacanestro In Per quanto riguarda Le donne Invece L'Eppi ha perso A Budio 51 A 37 E Sant'Arcangio Ha vinto Con l'ultima Della classe Mirabello 70 A 40 Andrea ti chiedo Per queste Chiaramente Queste ultime partite C'è L'8 aprile Si ricomincia Con 100 C'è Da giocare A Piacenza E c'è Da giocare Con Bernareggio Voi All'andata Alla vigilia Di un Periodo Piuttosto complicato Come Come questo Era la fine Del girone D'andata In quel caso Avete preso A marciare Veramente forte E' una questione Di accoppiamenti Tecnici O piuttosto Di un periodo Vostro Che è stato Probabilmente Il migliore Della stagione Che sicuramente Lo ritrovaste In questo momento Farrebbe la vostra fortuna Ma Non so Magari è stato Un periodo Particolarmente Buono Comunque Abbiamo dimostrato Di poter dare Filo da torcere Anche Alle squadre Alle capoliste Come Centro Piacenza Speriamo Di fare Lo stesso Anche in questo Girone Di ritorno Noi Ce la metteremo Tutta Appunto Per vincere Queste ultime Tre partite E per Mettere Più punti Possibili Tra noi E la zona Playout Alessandro Mi dici Cosa Hai parlato Prima Chiaramente Di Forza mentale Della squadra Che è ritornata Da un periodo Molto complicato In cui Lachina Sembrava essere Un'altra Mi dici invece Qual è la chiave Tecnica Per queste ultime Partite Perché Insomma Abbiamo imparato Conoscere Questa squadra Prege Difetti Adesso In questo momento In queste tre partite Cosa serve Il Krebs Serve La Capacità Da parte Di tutti Di dare un contributo A livello Realizzativo Secondo il mio punto Di vista Inaspettato Nel senso che Fino adesso Rimini è stata Una squadra Che ha avuto 20-25 da qualcuno Poco da altri Servirebbe Una ripartizione Più eco Soprattutto contro Centro Secondo la squadra Che è una squadra Che è una corazzata Potenziale offensivo Espresso da più giocatori L'unica cosa Che è grande Applicazione difensiva Perché alla partita Le vinci Palla canestro Palla canestro Però le vinci Con la difesa Non c'è niente da fare È la dimostrazione Di come si vince Con la difesa Perché Quando le partite Sono determinanti Decisive Gli errori sono tanti Se difendi forte Lotti Ti sbatti Alla fine La porti a casa E alla fine Ricordiamo Che qui la formula Non l'avevamo ben detta Insomma Avevamo detto Chi entra nei play out Però diciamo Sono due sfide dirette E poi a casa Assieme all'ultima Della classe Altro messaggio Federica Come mai un giocatore Del livello di Gamberini Non ha mai giocato Almeno in A2 Rispondisi Ma è una domanda Un po' particolare Prima di tutto Perché Non sono un giocatore Che potrebbe stare In A2 E poi Perché Ho sempre dato priorità Agli studi Al lavoro E Ho preferito Guardare più Altri ambiti E considerare La pallacanestro Più un hobby Come hai visto Il livello Della Cigold Di quest'anno Prima Parlavamo Di stranieri E non stranieri In rapporto Al campionato Di Serie B Cigold L'hai già giocata È su base Regionale Lo diciamo Per chi Per chi Non lo sapesse Insomma Si va Da San Marino Sostanzialmente A Castelnuo Ne Monti O a posti Impronosticabili Sulle montagne Ma insomma Ci sono anche Squadre Di bella tradizione Il livello Medio Come l'hai visto È un campionato Molto equilibrato A parte Le prime 3-4 squadre Che ovviamente Hanno puntato Per salire Di categoria Investendo Molto Sul mercato E Tra le altre Diciamo Che il livello È Più o meno Simile E Abbiamo visto Tranquillamente Squadre di bassa In classifica Vincere Anche Contro Squadre In classifica Medio alta Quindi Il punteggio In classifica Non è così Importante E per questo Infatti sono Molto equilibrate Ti posso chiedere se confermi Prima ti dico la mia opinione Poi ti chiedo se sei d'accordo o no Non è una vera e propria domanda Ma Comunque è questo Se ne parlava anche con Coach Foschi Tra le varie formule Della Serie B Ne abbiamo parlato Della classifica di Serie B E la classifica di C-Gold C'è la particolarità Che in C-Gold L'ultima Non retrocede E andrebbe anche Tutto bene Se fosse un campionato In fondo Con Battagliato È battagliato Ma nello specifico L'ultima no Perché Modena Ne ha vinto solo una E Modena Si sta rinforzando adesso C'è una finestra di mercato Che praticamente Non esiste Si è rinforzata Anche con un giocatore Importante adesso Questo non è Sportivamente parlando Ed è chiaro Che parliamo dopo E quindi Non vale a nulla Ma filosoficamente Sportivamente parlando Non è un po' scorretto Sicuramente C'è qualcosa Da sistemare Nel senso che Non sono molto D'accordo Con questa formula E una volta Che il mercato Si è chiuso Si è chiuso E una squadra Che comunque Vince una partita In tutta La stagione regolare Si rinforza praticamente Per competere Nei play out Quando ha visto Tra virgolette Tanto il distacco Adesso mi riposo Tra quattro mesi Non lo spendo adesso Il gettone Lo spendo tra un po' Si è brutto da dire Però Alla fine dei conti È così Funziona così Va bene così Noi naturalmente Nell'augurarvi Un buon periodo Di festività Salutiamo intanto I nostri ospiti Alessandro Ceccoli Buonasera Buonasera Tomas Gamberi Buonasera a tutti Buonasera Andrea Tartaglia Buonasera a tutti Grazie naturalmente Di essere stati qui con noi Buonasera Federica Grazie Loreano Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Il programma È stato offerto da Francioni Group Consorziologica Buonasera a tutti Buonasera a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.